Sean Morinari, autore di 23 gol in campionato, quello che dicono le statistiche sono queste, oggi ci sei andato vicinissimo, valore aggiunto di questa squadra, sei anche un punto di forza però della prima squadra, allora raccontaci intanto questo primo traguardo, si è visto insomma una squadra che meritava di vincere questo campionato, grandissima questa contentezza. Sì, siamo un gruppo molto affettato e già ad agosto abbiamo lavorato duro per questo obiettivo, con lo staff e tutto, anche il presidente ci è sempre stato vicino, ce lo meritiamo, sono contentissimo anche se adesso sto morendo, però è una gioia immensa e poi anche la prima squadra spero di poter dare una mano in futuro per questi playoff. Ovviamente, senti magari siete partiti leggermente contratti, forse al primo tempo gli avete lasciato un po' di spazio, vi ha preso un pochino di, come si dice, un po' di braccio corto per giocare allo Zecchini? Io penso la tensione è stata più la frenesia di voler vincere, poi si è visto il valore, comunque eravamo più forti, loro sono venuti qui a fare la partita della vita, però alla fine l'importante è il punto che abbiamo portato a casa. Senti, ma quanto gli vuoi bene a questi compagni di squadra? Come fratelli, per me sono come fratelli, anche il mister, il presidente, tutti, è una famiglia grandissima, immensa. Allora, in bocca al lupo, complimenti per i tanti gol e ci vediamo contro il Poggi Bonzi. Ci vediamo contro il Poggi Bonzi. Ciao.